Allora, dolore ai rapporti in una donna giovane. In caso tipico, la ragazza che viene in consultazione dice guarda io non ce la faccio più, mio fidanzato ormai ha deciso di lasciarmi, siamo disparati perché io fin dalla prima volta ho avuto dolore ma adesso proprio non reggo più di avere un rapporto o poi bruciore tremendo per giorni. Cosa può essere successo a questa ragazza? Ascoltiamo nettamente la sua storia. Ci dice avevo dolore fin dalla prima volta. Quando una ragazza ha dolore fin dalla prima volta, vedete per forza tutti hanno male la prima volta, bravi, ma dopo una volta e due se ne va. Se invece il dolore persiste, questo significa che questa ragazza ha un vaginismo. Che cos'è il vaginismo? È un disturbo sessuale caratterizzato da una contrazione eccessiva del muscolo, appunto elevatore dell'ano che circonda la vagina e tiene più ristretta l'entrata. Chiaramente se la porta è stretta e uno forza l'entrata si rovinano i cardini. Che cosa si rovina? La mucosa ecco che va incontro a microabrasioni, le microabrasioni si infiammano con i germi dell'ecosistema, quindi non è un'infezione sessualmente trasmessa, è proprio un'infiammazione di un tessuto perché c'è un'abrasione e a quel punto la ripetere dei rapporti crea un'infiammazione importante dell'entrata vaginale che si chiama vestibolo e questa è la causa della temibile vestibolite vulvare. Poi sul mio sito trovate tutto, www.alessandagrazzettin.it, tutte le spiegazioni che volete. Bene, in questa infiammazione che cosa succede? Che come in tutti i parti del corpo, quando sono infiammate si contraggono per proteggere quell'area. Bene, la stessa cosa succede in vagina, si è infiammata l'entrata vaginale e il muscolo che circonda la vagina si contrae, ma questo rende sempre più grave il disturbo perché a quel punto la donna non riesce più a avere rapporti e se li ha, non solo ha un dolore tremendo all'entrata vaginale con bruciore che dura ancora per giorni dopo, ma compaiono nei cestiti. Allora che cosa dovremmo fare? Innanzitutto dire che questo dolore è vero e non che la signora ce l'ha in testa. Due, che ha delle cause precise che sono l'ipertono del muscolo che quindi andrà rilassato con una fisioterapia appropriata, bastano in genere 10 sedute a volte anche meno, va fiammata e spesso che cosa vediamo? Che c'è una candida recidivante. Allora noi tratteremo con antimicotici per bocca, con protocolli molto precisi perché abbiamo fatto degli studi su questo molto chiari con pubblicazioni anche scientifiche relative, andremo a modulare lo stato infiammatorio e vi dico anche una cosa importante, che noi utilizziamo alcuni psicofarmaci. Non sono mica matta, perché mi dà lo psicofarmaco? Attenzione, innanzitutto dosaggi bassissimi e usiamo per esempio la mitriptilina che è un antidepressivo vecchissimo che ha un'azione antinfiammatoria specifica e un altro farmaco che serve a rilassare il muscolo. Quindi dosi basse, non perché c'è un problema psichiatrico, ma perché questi farmaci sono ottimi antinfiammatori, ci aiutano a spiammare. Poi ci sono altre sostanze che non sto a dettagliare. Il risultato qual è? Che una donna che ha avuto dolore per 10-15 anni può nel giro di 9 mesi, un anno, non due giorni, perché è un'infiammazione molto importante, i miliardi di cellule infiammate, avere gradualmente una riduzione dell'infiammazione, riuscire a riavere una vita sessuale. Ma attenzione, anche quei stili di vita importanti. Non vivete di solo la pizza ragazzi in ascolto, perché la pizza fa malissimo dal punto di vista degli ecosistemi, soprattutto se è il cibo dominante. Noi dovremmo tornare a un'alimentazione più sana, quindi privilegiare verdura, frutta, il riso, se abbiamo voglia naturalmente di mangiare anche degli amini, pesce, carne, cereali, legumi. Quindi ridurre e per il periodo di cura abolire tutti i lieviti e gli zuccheri semplici. Si può il fruttosio, perché è uno zucchero naturale che non richiede l'insulina per entrare nelle cellule. Ma in breve, con stili di vita appropriati, terapia appropriata, si può tornare a far l'amore di gusto e soprattutto a scoprire che essere donna è bello, non che avere dolore normale, non è affatto normale, è un sintomo che va curato fino ad essere eliminato dalla vita e dall'infinità.